Stai soffiando? Brinda più aria, ispiri bene, forza, così. E adesso fuori tutta l'aria che ha preso. Va bene. Basta mettersi d'accordo sul prezzo. Non se ne parla nemmeno, il prezzo è quello e non si discute. E poi la gente interessata è tanta. Sì, ma io la prenderei subito. Se vuole posso entrare domani stesso. Solo che nel tuo caso si è verificata una sfortunata coincidenza. Ah sì? Di quale sarebbe? Che a ballare, sei molto peggio che a letto. Da questa vita siamo noi. Lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole e ancora ci sarà. Lo so cosa stai pensando, ma credimi, non è così, te lo giuro. Che razza di persona sei. Io ho anche fatto venire mio padre. Lassimi spiegare, aspetta un secondo. La smettete? Eh? Andate a discutere da un'altra parte. Qui dobbiamo lavorare. Dai, vieni, vieni. Aspetta. Per favore. Aspetta. Non toccarmi. Tu non mi devi nemmeno sfiorare. Beh, che cosa ci fa una così bella signora tutta sola? Renata, ciao. E che cosa ci faccio? Sto cercando mia figlia come disperata e ovviamente non la trovo da nessuna parte. Per caso sta da voi? Mi pare che andava con Angela a vedere un appartamento. Ah. Che cosa ci vuoi fare, Marina? Uno li nutre, li cura, li veste per venti anni e poi un bel giorno piglia e se ne vanno. Oh, certo. Ma il problema non è che se ne va, Renato, e con chi se ne va. Va a vivere con Michele. Già, Michele. Certo. Uno che ha un po' di disastro alle spalle, anch'io sarei un po' preoccupato. Però Michele è una brava persona. Oh, sì, certo. Ma non mi sembra l'uomo giusto adatto per lei, tutto qua. Per la differenza d'età? Ma no, sono tante le cose, Renato. Insomma, Elena ha bisogno di stabilità, di sicurezza. E Michele che cosa può offrire? Dimelo tu. Ha una ex moglie, una figlia e ha un lavoro precario. Ma è un lavoro precario, insomma, fai il giornalista, è un lavoro di prestigio. Oh, certo, fai il giornalista, sì, ma senza un contratto fisso. Che cosa vuoi che ti dica, Renato? Io sono sua madre ed è ovvio che desidero il meglio per lei. E poi tu mi puoi capire, no? Anche tu hai una figlia. Già. Oddio, scusami. Scusami, non ho pensato che Angela sta con un meccanico. Ma no, che non ci sia niente di male a fare il meccanico, eh? Che devo fare? Uno poi li lascia andare, no? Ah, sì, l'importante è poi che non vengano a piangere sulle nostre spalle. Dottor Poggi. Filippo. Signora. Filippo, carissimo, come va lo stage? Procede. Speriamo che prima o poi mi facciano entrare nel vivo. Farai un carrierone. Filippo. Ah, sì, lui sì. Che sarebbe un buon partito. Ottimo partito. Sperto. Oh, e qua ci mettiamo la stanza di Vittorio. Che dici? Eh sì, ma non sono mica io quella che devi convincere. Figurate quella, Assunta si innamorerà al primo colpo, non ci sono problemi. Vabbè, allora non fartela sfuggire, sbrigati a dare una risposta, le sentite quelle due, no? E abitano che avranno un tutore nell'ordine del loro palazzo. Ciao. Ciao. Ho preso un po' di frittura mista, mangiate, cari. Un grande giochino a fame. Eh ragazzi, lasciatemi qualcosa, eh. Eh ma che hai fatto con la casa? Eh, la casa l'avrei trovata, solo che quando ho chiesto un piccolo sconto mi ha detto che ci sarebbe una persona disposta a prenderla a prezzo pieno. E tu ci credi? Perché scusa? Se lo sarebbe inventato? Certo, è un trucco, fanno tutti quanti così, in modo che tu decidi in fretta e la prendi al prezzo stabilito, no? Speriamo. Tu piuttosto, com'è andata? Eh, io non vi stavo una che è nella favola. Dai, dove sta? Eh, qua vicino, a via Posillico. Ma come? La mia sta lì. Ah sì? Sarà due o tre curve prima. Questa è la pianta? No, dico, sono tre stanze. Su cucina, ho un'ottantina di metri quadrati. Ma questa è l'entrata? Sì, c'è pure l'ascensore. Doppia esposizione, terrazzino. Con soggiorno... Eh? Pronto? Eh, salve signora. Signorina, mi scusi. Come una decisione intro stasera? Sarebbe possibile, almeno fino a domani mattina? Eh? Ma c'è una persona pronta ad entrare? Ho capito. Vabbè, paghiamo io. Su, faccia dei lunghi respiri. 140-80, la pressione è buona. È un po' tachicardico. Mettiamo il saturimetro. Vabbè, io non respiro. La saturazione di ossigeno nel sangue al 90%. Su, respiri, dei lunghi respiri. Ma stia giù, cosa fa? Facciamo mezza fiata di benzo e di aziepina. Sì, dottore. Stia giù, stia calmo. Adesso le facciamo un calmante. Vedrà che starà meglio. Su, forza, si giri. Fermo. Fermo. Ecco qua. Ecco qua. Fatto. Tutto fatto. Su. Lo vede che già sta un po' meglio? Eh, però lei mi deve fare la cortesia. Deve stare un po' più tranquillo. Posso sedermi vicino a te, tesoro? Papà mi ha raccontato, sai? Immagino come ti debba sentire. Ma perché, mamma? Perché? Hai ragione, tesoro, mi hai ragione. Lui era tutto per me. Io, io lo amavo. Mi fidavo di lui. Lo so, lo so. Lui fino a stamattina mi abbracciava. Mi diceva che mi amava. Come ha fatto? Come ha potuto tradirmi? Che cosa posso fare? Non so più cosa fare, non so più niente. Adesso non devi fare niente. In questo momento niente. Sto troppo male, mamma. Vieni qui, tesoro mio. Vieni qui, vieni qui. Abbracciami, abbracciami. Oh, mio amore. Il latte come lo vuoi? Intero o parzialmente scremato? Intero, grazie. Un litro, vero? Sì. Ma certo che è assurdo. Cosa? Il giallo di Palazzo Palladini. Cioè, c'è mezza pagina su Sveva Kassler e appena due righe sul fatto che Sofia non c'entra niente. Cioè, fino a che era lei la presunta colpevole, i titoloni, è tutto spiano. Adesso che è innocente non interessa più a nessuno. E purtroppo è così. Sono le notizie clamorose quelle che fanno vendere i giornali, anche se sono false. Poi dovresti sapere qualcosa. Ecco qui. E poi, come si fa a dubitare di una come te? Ma per fortuna che adesso è tutto finito. Quanto ti devo? Ma posso prendermi un gelato? Poi c'è un nuovo tipo, eh? Cocco e fragola che è una delizia. Un gelato a quest'ora. Ti prometto che cena mangio tutto. Eh, va bene, prenditi questo gelato. Mamma, offre la casa. Allora vado con cocco e fragola. Almeno ringrazio, su. Grazie. Sì, pronto? No, ha sbagliato. Di niente. Buongiorno. Allora, io me ne vado. Grazie di tutto, eh? Grazie. Ciao. Andiamo, ciao Lino. Ciao, arrivederci. Senti, non vorrei dire, però, la stagione si avvicina e la richiesta di gelati aumenta. E allora? Eh, bisogna organizzarsi, sistemare le sedie, gli ombrelloni, tirare fuori il congelatore. Certo, certo. Ci penso io. Tu vai pure. Ah, va bene. Cambiati. Grazie. Ah, su, ti ho detto oggi, non insistere, oggi è oggi. E tu fallo mangiare, vedrai che si calmerà. Aspetto una tua chiamata. Eh, vabbè, ciao. Problemi con il bambino? No, tutto a posto, è solo che quando non mangia non dorme, tranquillo. Ah, figuriamoci nella nuova casa come sarà. Ma che vuoi dire, scusa? No, sai, in camera di letto ho sentito il classico glu glu da tubatura vecchia. Una continuazione. Per un bambino piccolo, insomma, non credo. L'ho vista la casa, tutto a posto, non ho sentito nessun rumore. Guarda, proprio una casa idonea, mamma mia, e comunque, senti, meglio che vivere qua o a casa dei salvetti, permette. Vabbè, su questo forse hai ragione, ma due proprietarie come quelle io non le auguro a nessuno. Quindi manco a te. Ma le hai viste, dai, sembrano due uscite da un armadio pieno di naftalina. E poi sono due in piccione. Assunta ci litigherebbe subito. Sono un po' alla antica, e ti devo dire, però a me sono risultate pure simpatiche. Secondo me faranno lo stesso effetto pure ad Assunta. Vogliamo parlare del vicino che suona sempre il piano? No, è una volta che l'ho capito che stai cercando di fare, eh. Ragazzi, scusate, ma fate sul serio? Quella casa a me piace, e non la perderò certo per te. Peccato che piace anche a me, e ti assicuro che sarà mia. Questo è da vedere. Ragazzi, ma che bisogno c'è di fare così? La situazione è chiarissima. Se Assunta entro stasera non la convince a prendere la casa, subentra Elena, basta, non c'è da discutere. Forza, comportatevi correttamente. Datevi la mano. Massima realtà? Massima realtà? Missione compiuta! Sono riuscito a parlare con il tuo medico. Beh, e allora? Non ti interessa sapere le sue conclusioni sull'origine della tua crisi? Sentiamo. Ha detto che è tutto qui, in quella capoccia che ti ritrovi. Eh, certo, mi sarei inventato tutto. Ma no, ti sei agitato troppo. Entra invece nella tua situazione te ne dovresti stare un po' più tranquillino. E come, scusa, se è bastato un brutto sogno per mandarmi in crisi respiratoria? Ma dai, era una cosa passeggera. Certo, sarà stato pure frutto della mia fantasia. Intanto io sono stato male sul serio. Però adesso sei migliorato, no? Sì, la fanno facile i medici. Intanto ci sto io qua. Ma nessuno la fa facile. Solo che devi stare un po' più tranquillo e non devi fare sforzi. Vabbè, Aldo, io posso pure stare fermo, inchiodato, immobile, come una mummia. Però intanto non posso controllare anche i sogni. Non posso. Che cosa vuoi ancora? C'è sua figlia. E dopo quello che hai fatto hai pure la faccia tosta di presentarti qui? Io vorrei parlare con Viola, se non le dispiace. Te lo puoi scordare. No, aspetta, io devo assolutamente vederla, io devo spiegarle. Senti, hai deciso di farmi perdere la pazienza? Ti ho detto vattene. No. Senti, guarda che stai superando ogni limita e sparisci, per favore. Cosa succede qui? Signora, signora, la prego, io devo assolutamente vedere Viola, io devo parlarle. Non mi sembra proprio il caso in questo momento, Matteo. Signora, è importante. Viola è molto agitata e non ha nessuna intenzione di incontrarti. No, no, non ci credo, non può essere. Senti, ora basta, eh. No, no, lo prego! Vai, sparisci! Viola! 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 Signor Del Bue, noi volevamo darla a lei l'appartamento, ma ora ci metti l'imbarazzo. Non è vero, mamma? Eh, signora, non ha parole, la potete pure dire, del resto un po' di confidenza adesso ci stai, ah. Io che cosa vi ho detto? Vi ho detto che a me la casa piace, ma veramente. L'unico problema è che non ho potuto portare mia moglie qui. Cioè, che vi succede? Solo un giorno, un giorno in più? Potete aspettare un giorno? Che vi costa un giorno in più? Di tempo per decidere ne avete avuto. E poi, come vi ho detto, c'è già un'altra persona molto interessata alla casa. E comunque, io questa persona qui interessata la conosco molto bene. E vi posso dire che è veramente inaffidabile per non parlare poi del lato moralità al quale voi tenete tantissimo, giustamente. Ah! Senti che mi parla di moralità? Ma non avevamo un accordo io e te o sbaglio? E tu com'è che sei montata per rispettare un accordo? Sei bravo, ma... Signor Del Bue, forse la signorina Giordano non è proprio come l'avete dipinta. E poi, pur di avere l'appartamento, ha fatto anche un piccolo sforzo sul prezzo. Per cui, a questo punto... Proprio il massimo della realtà. Complimenti, bravo. Quando sei in guerra? Ma vogliamo parlare del lavoro che fa la signorina qui presente? Voi lo sapete che sta nel mondo dello spettacolo? La signorina lavora in televisione. Fatti, fatti tuoi. Se confittate la casa lei sapete che succede? Ci sarà un via vai tutti i giorni a tutte le ore per non parlare della notte perché questa gente è qua organizzano feste e festine. Ma sì, invece diamolo alla famiglia del Bue. Lo sapete poi come fa di secondo nome il piccolo Vittorio? Attila. Distrugge tutto quello che tocca. Vogliamo parlare di quando la signorina invece si avverrà sopra i fatti? Tu mi devi spiegare come intenzione di ridurre questo parcheggio in giro di una settimana tipo... Ah, silenzio. Signorina, ma lei davvero lavora in televisione? Confessa, sapete. Veramente da poco tempo. Sì, faccio parte del cast tutto in una notte. Tutto in una notte? Mamma, il tuo programma preferito. E lei è la signorina che fa le interviste sui fatti, vi è vero? Sì, tutto in una, no? stai. Giulino! E chi doveva essere? Mago Zullino. Ma scusa, non avevi appuntamento con Grazia? E vabbè, per una volta che aspetta lei sono sempre stato puntualissimo. Volevo mettere questo fuori. E vabbè, ti ho detto che ci avrei pensato io, no? Vabbè, volevo evitarti questa fatica, però ho visto che già c'è stato il ghiaccio qua. Eh sì, sì, c'è il ghiaccio. L'ho trovato con la presa attaccata, chissà da quanto tempo stava. Questo non è un problema tuo. Vabbè, certo, la bolletta la paghi tu, mica la pago io, contenta tu. È che una settimana fa volevo vedere se funzionava e mi sarò dimenticata di staccare la spina. Sì, vabbè, mica mi devi dare delle spiegazioni, sa? Vabbè, se non ti servo più io me ne vado, eh? Sì, vai pure. Infatti, come in American Gigolo, solo che questo non era un film. Certo che ci vuole un bel pello sullo stomaco. Uno schifo, te l'assicuro. Quando stavo lì in quella camera d'albergo ero come in trans, non capivo cosa stavo facendo. E com'è che non sei andato fino in fondo? Perché all'improvviso mi sono reso conto di quello che stavo per fare. se l'avessi tradita, Viola, non sarei più riuscito a guardarla in faccia. Avrei revionato per sempre la nostra storia. Sarebbe stato tremendo per te, Matteo. Comunque, sei stato bravo. Sei riuscito a tirarti fuori in tempo. La verità è che mi sono comportato come un idiota. Questo è il portafortuna di Viola. Me lo devo aver messo di nascosto nella borsa. E non me la meritano come lei. Ehi, continua a darti addosso se ti fa piacere, Matteo, ma l'unica cosa che penso è che devi parlare con lei. Perché tutto sia giusto. Non mi lascia neanche entrare in casa. Ma tale tempo. Viola è una ragazza generosa che capisce e trai che sarà lei a venirti dietro. L'unica cosa che devi fare è quella di trovare una spiegazione plausibile. Ciao. Io adesso vado a farmi una doccia qui rischia di scomporre idea. Ehi, Matteo. È incredibile, che non l'immbambolata. Un altro passo facevano firmare l'autogra. E chi l'avrebbe mai detto guardarsi tutto in una notte? Ma quelle sembravano uscite da un film di Tina Pica. Intanto noi ci siamo persi la casa. Senti, ma non è che adesso te la sei presa con Elena? Figurati. Io non ce l'ho né con Elena né con le diviase. Piuttosto un po' con Assunta, sì. Bastava che veniva a vederla a questa casa. Magari a quest'ora avremmo firmato anche il contratto. Ma infatti, ma che le costava passare a vederla? Boh, sai cosa c'aveva per la testa? Magari stava pensando al papà, alla sorella. Guido, io non vorrei essere indiscreta, però non è che fra voi due c'è qualche problema. Problema? Cosa? Non credo, non più del solito. Certo, sto fatto che viviamo in due case separate, certo, non c'è aiuto. All'inizio ho capito Vittorio era piccolo, aveva bisogno di una mano Assunta, però non è normale che una famiglia vive sto sto tempo separata. Infatti, allora perché non hai passato a vederla all'appartamento? Tu lo sai, io no. So solo che ogni volta che parliamo di questo argomento lei mi inventa mille scuse. Sembra che rimi contro. Io fino adesso ho aspettato perché mi sembrava giusto fare così, però non ce la faccio più, non mi devi dire che cosa c'è in testa. Viola, ti prego, guardami. Io non so cosa l'hai preso a quella. Io te lo giuro, tra me lei non c'è mai stato nulla. Devi credermi, io non ti ho mai tradito, Viola. E mai lo farei? Viola, ti prego, parlami, dimmi qualcosa. Io, io non ti voglio perdere. il nostro amore, il nostro amore era la cosa più bella del mondo. No, il nostro amore è qui, Viola, siamo io e te. Non è successo nulla. Dai, Viola, per favore. Cosa non darei per poterti credere? Per poter avere ancora fiducia in te? Io non ti ho mentito, Viola, te lo giuro. Va bene, mettiamo anche che non ci sei andato a letto. Io però una cosa non la capisco. Tu che cosa ci facevi in quell'albergo con lei? Io ero lì per, 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 io, scusa, io. Lascia perdere, tanto è inutile. No, Viola, aspetta. Matteo, è finita. è finita per sempre. Non mi chiedere che cos'è perché non lo so. Ma, l'odore è buono. A tuo rischio è pericolo, vai, vai. Come mi sembra, non lo so. Non mica male, sai, deve essere una zuppa di farro. sì, legumi e farro. Bravo, mi dimenticavo che tu eri in grado di mangiarti pure i vassoi, se vuoi. Ma ti ricordi quella volta che facciamo la riunione in redazione, si fecero le tre per addentrare il panino, mi stavo staccando un dito. No, guarda, se vuoi c'è pure il secondo, di solito portano caviale, ostri, che oggi non so che cos'è, comunque puoi guardare. no, è che è un peccato buttarla, ecco, è così buona. L'orario di visita è finito. Lo so, stavo appunto salutando. Carissimo il mio Michele. Aldo, grazie, grazie di la visita. No, ma per carità, adesso statene tranquillo è soprattutto non dare retta ai tuoi sogni, eh? E fa una cosa, cambia anche tipo di lettura, per esempio, eh? Libri, romanzi d'avventura, moderatamente avventurosi. Scusa, che c'entra il giornale? Tu sei stato traumatizzato, è vero, però guarda caso, certi temi affiorano proprio adesso, eh? In questi giorni, qui è pieno di, del giallo di Palazzo Palladini e invece il caso è chiuso e quindi cerca di chiuderlo pure tu. Va bene, ci proverò. Michele, è finito, veramente, credimi. Chi c'è? Io, che c'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti.